ciao a tutti i ragazzi e bentornati sul mio canale oggi per la rubrica vi consiglio un'app voglio condividere con voi open document reader un ottimo lettore di file odt per il nostro smartphone android open document reader vi consente con soli un mega e rotti di spazio occupato sul vostro dispositivo di poter aprire e anche editare i vostri file odt quindi generati con libro office o open office comodamente sul vostro smartphone come vedete sto scorrendo il documento che illustra tutte le caratteristiche delle varie versioni di questa app e facendo clic su questa matita potrò andare a editare il singolo testo di questo documento quindi per esempio cancellare questa riga e facendo clic sul dischetto andare a salvare sul mio dispositivo il file con le nuove modifiche da qui potrete aprire i vostri documenti anche su dispositivi di cloud quindi per esempio dropbox o altre posizioni sul vostro dispositivo quindi scegliete file da dispositivo e potrete anche andare a ricercare del testo dentro il documento un'app veramente comoda utile visto che android non prevede di suo un lettore di file odt per il nostro smartphone io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video